ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video oggi siamo su un kai star rail con le pulle nuove per luoccia o 50 e 50 pull sufficienti per prenderlo anche se perdo il 50 e 50 però si può evitare meglio e insieme abbiamo yukong che è personaggio nuovo anche quello da attendere anche se ce ne regala una copia gratuita nella 1.2 però insomma come sempre le pulle sono il nostro momento di preferito quindi speriamo di sculare di trovarlo presto nel caso vissi sculare continuate a fare qualche molti per yukong ma staremo a vedere comunque vi auguro buona visione multina qua ok bene non mi strappo nulla per fortuna potrebbe essere un problema strapparsi tutto in live non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo 4 stelle che vorrai singh un ma tanto io lo so che c'è lei se non c'è un light con ovviamente se non c'è un light con c'è la signorina pela esattamente io ho detto questa la faccia e sei subito va bene chiaro è proprio scriptato questo era proprio scriptato scritto ok 46 andiamo a 56 liscia si va bene va bene va bene va bene vediamo vediamo dove ci conducono era abbastanza in fondo la multi e sei 66 poi faremo delle singolette faremo delle singolette vediamo vediamo non ho guardato l'ashievement dei personaggi ok genius response ce l'avevo già la prossima è garantita vediamo se c'è sempre questa multi o mi esce nelle prossime singole ok 67 tra l'altro ora c'è tipo il quattro stelle in una di queste 68 ok dovrebbe essere tipo la prossima infatti non la schifo questa 69 questo dovrebbe essere il 4 stelle e infatti la lascio yes dai Yukong va bene tanto sono loro 3 quindi in un modo o nell'altro 70 e poi altre 4 e poi molti ve l'ho detto che oggi pomeriggia oggi stamattina mi è uscito il 5 stelle nel secondo account ve l'ho detto che mi è uscito il secondo account di Genshin non l'ho sottolineato scusate nel secondo account di Genshin per chi c'era in live stamani 71 era questa 72 si stamani in live su tiktok 73 davide ti conti torna vero? che questa era la 73 ok 74 ultima singola e poi ci siamo e poi si tira la multi bene perfetto portiamoci sto cristiano a casa su su ok 5 stelle ce l'abbiamo accidente a quando mi è presa la pullopatia per i giochi gasha più di 10 anni fa accidente a me mi sono condannata ok vediamo 75 76 77 78 si 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 oh mio dio oh mio dio oh mio dio si oh mio dio raga oh mio dio oh mio dio quanto felice no no raga io io vi giuro vi giuro sto troppo contenta sto troppo contenta questo uomo lo volevo troppissimo vado avanti 1 2 ora si riparte la paura che mi uscisse Clara la paura che mi uscisse Clara oh bronia che non volevo per niente oh mio dio facciamo 4 singole si sa mai che esca ora così uè 4 singole 1 2 3 questa comunque è stata la mia lamentela per non aver pullato tanti personaggi perché mi sono uscite due armi sul permanente cioè questa è proprio la vita che mi ha detto uè tieni 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 ok siamo a pt10 pt20 vorrei yukong gentilmente vorrei yukong in questa multi grazie grazie gentilissimo vorrei yukong possibile fattibile però sono pull chi prende la del permanente velt 100 100 velt doppio 4 stelle in questa multi credo che stronza che stronza sta pela 30 sta pela ok ho anche l'arma simo per velt ho anche l'arma 5 stelle ok subito inizio multi io vi giuro va a finire che mi rifaccio un'altra multi va a finire che mi rifaccio un'altra multi ve l'ho detto è il mio personaggio in retap di questo gioco io come barbara di là che ho fatto c20 letteralmente ok e adesso c'è lei è proprio scritto ah ma sono a pt adesso vado a pt 40 comunque vabbè qualcosa mi rimane lo stesso va bene va bene questa cristiana poi io voi non sapete quanti sta il glitter o eh voi sapete quanti sta il glitter ora poi ve li faccio vedere dopo andiamo ma guarda paradossalmente per me arce oh eccola ce l'abbiamo meno male paradossalmente per me comunque sarebbe meglio aver fatto E6 Yukong che scusami Sushang che pela per quanto mi riguarda comunque bene a meno E0 ce l'ho e l'E1 che è quella che mi piace bene se no dopo mi piace tipo l'E4 quindi ciao ne proprio ok 50 se non sbaglio perché abbiamo fatto questa è la quarta multi quindi dobbiamo andare a 50 adesso a me in tutto ciò mancarla ci tengo a sottolineare che non l'abbiamo detto cioè ieri tranquilla e rilassata ma a me ancora Arlan non è mai uscito salve Luca salve ok 60 anche per me Arlan può stare dov'è però però 1 per dire l'ho trovato 1 non mi sembra di chiedere tanto un Arlan maledetta a lui e 1 così avrò la E2 molto bene molto bene ok perfetto e 1 molto bene 70 mi rimangono comunque tipo 6.000 seller jade che non è male vediamo vediamo sì sì mi rimangono tipo 5.000 qualcosa del genere anzi faccio una cosa diversa e questo è il 71 ok le 3 e 3 pela dopo la E6 ok ultima ultima e siamo lì perfetto pd74 andiamo ed ecco la chiefmente perché è il mio ventesimo personaggio è il mio ventesimo personaggio perché di nuovo mi è uscito Gepard mi è uscito a Yukong lui è il numero 20 quindi ce l'abbiamo vediamo dov'è 75 76 77 eccolo qua eccolo qua eccolo qua facciamo la fotina 77 preso preso ok 1 2 3 4 5 6 7 perfetto quindi un'altra pull un'altra pull va bene va bene un'altra pull va bene a 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 10 9 10 11 8 9 10 11 11 12 12 13 15 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.